Che alternativa avrò a quei giochi in cui vanno quei ragazzi disperati e a cui vietiamo tutto? Apriamogli i luoghi del piacere e dell'intelligenza, mettiamo un ristorante e perfino anche una piccola macchina per il cretino che vuole giocare con la soft machine. Mettiamola lì a fianco di Botticelli, ma non vietiamo, esaltiamo, incitiamo la conoscenza. Vietare è un crimine. Se avete letto Foucault, se avete letto I Grandi, leggete Battagli, leggete voi una sinistra colta, che siete più colta di tanta destra armata, quelli che dicono vietato vietare e smettetela di rompere i coglioni vietando i coglioni, i coglioni sono i miei. Usi il linguaggio consono, è la seconda volta questa. Duva. Grazie Presidente, solo per ristabilire un attimo la verità.